E andiamo avanti con la nostra sinfonia popolare, quella che vi stiamo raccontando stamattina in musica. È bellissimo fare questo viaggio intorno al mondo della musica perché scopriamo come alcuni brani o alcuni linguaggi che appartengono alla tradizione più antica, reinterpretate da giovani artisti, sfidano un po' l'usura del tempo, inventando nuove sonorità, nuovi linguaggi, nuovi stili ed è quello che questa mattina ha deciso di regalarci una straordinaria artista che si chiama Fiorenza Calogero, giovane, il testo e la musica del brano che stiamo per ascoltare è scritto da Enzo Abitabile che sarà protagonista di un momento successivo, siamo pronti per ascoltare Tre Frun e Tre Shure. Grazie. 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 Abbiamo ascoltato Tre Frun, Tre Shure, grazie. Grazie.